canale allora oggi nuovo video un video di disegno e andremo da realizzare questa donna qui in bianco e nero e lo userò solo la matita rossa per fare le labbra praticamente adesso sto registrando con huawei quindi neanche se vede cioè se vede tanto bene insomma confronto a questo ovviamente quando faccio i video con questo però siccome c'ho i disegni qui sul samsung e quindi li registro con huawei quando faccio i disegni e guardo il disegno tramite il samsung insomma tramite questo altro cellulare e niente iniziamo subito vi lascio al video ci vediamo a fine video ciao 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 eccomi qua ragazzi l'ho preso qui al disegno è finito prima l'avete visto anche a rallettatore mi piace molto come mi è venuto non è male e niente spero che vi piaccia sia stato così mettete un pollice in su sotto al video se volete mi commentate e mi fate sapere cosa ne pensate di questo disegno e noi ci vediamo presto al prossimo video un bacio